Dopo la solenne cerimonia di beatificazione svoltasi domenica 26 maggio in cattedrale a Novara, nella chiesa parrocchiale dei Santi Vincenzo e Anastasio di Varallo Pombia è giunta la reliquia del beato Don Giuseppe Rossi. Si tratta di una falange. Il sacerdote, infatti, nacque il 3 novembre 1900... Buon compleanno Rally delle Valli Assolane! Vi aspettiamo venerdì 31 dalle 17.30 al Trocadero di Domodossola per La Storia Siete Voi. Un omaggio a tutti i vincitori e agli equipaggi di 60 edizioni del rally più bello. L'ingresso libero e la possibilità di apericena con prenotazione. Vi aspettiamo!